Grazie un'altra comunicazione di servizio è stata per prendere via la gara invitiamo gli altri gruppi che si stanno preparando attorno alla piazza di non suonare altrimenti la giuria non riesce a prendere coscienza di quello che avviene qui nel campo di gara quindi come già detto invitiamo gli spandellatori a prepararsi a riscaldarsi nell'apposito spazio qui dietro il palco principale un'altra cosa 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.